Il Nucleo Carabinieri Tutele Patrimonio Culturale nell'ambito dell'attività di promozione della cultura alla legalità e al rispetto dei beni culturali del territorio ha realizzato un opuscolo pieghevole che contiene alcuni consigli sul comportamento da tenere in occasione delle visite ai musei, ai luoghi d'arte e ai siti archeologici. Un manuale che è scaricabile su qualsiasi dispositivo telematico fisso e mobile ed è stato realizzato con un testo con illustrazioni tali da poter essere favorimamente recepito dai giovani in età scolare. Oltre a promuovere l'immagine d'allarma, costituirà un valido ausilio didattico in occasione di incontri istituzionali volti anche ad incrementare l'educazione alla legalità. Il QR code peraltro è stato impaginato in un formato che sarà stampato su un supporto adesivo e nel corso delle varie attività istituzionali dedicate alla verifica della sicurezza del museo a cura del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Previo Accordi sarà applicato all'ingresso dei musei presso le biglietterie, presso i centri di informazione turistica in modo che i visitatori possano trarne beneficio.